Musica Tornerà quasi certamente all'esame del Consiglio e il conto consuntivo, quello già bocciato lunedì sera. L'ipotesi si inquadra nell'imminente norma del commissario ad acta sul fatto che l'esito sarà lo stesso, ci sono pochi dubbi. L'ipotesi di una mozione di sfiducia è argomento di discussione dentro il centro-destra, lo ammette Ignazio Messina all'ospite, regione intanto pronta ad innalzare al 70% la soglia di consiglieri per sfiduciare un sindaco. Discarica abusiva in via Pagania, ridosso del ponte Canzalamone, grave degrado che mette a repentaglio anche la sicurezza pubblica per chi, malgrado la chiusura del viadotto, ha bisogno di percorrere questa strada. Le vie dei tesori verso il secondo weekend con nuovi percorsi e tra le altre novità uno show cooking sulle uova a Murina. A proposito di dolci, il nostro TG vi racconta la storia di una celebre torta albanese inventata da un saccenze. Spettacolo sotto i riflettori, il bel momento artistico e professionale di Liliana Marciante che oltre a far parte del cast di Iddu che esce ufficialmente oggi e ha lavorato anche in una serie prime e in una fiction della Rai. Sport e calcio prosegue il suo cammino in Coppa Italia all'Unitas Shaka che ieri ha battuto anche nella gara di ritorno l'Accademia di Trapani, formazione di Angelo Galfano che adesso accede ai quarti di finale. Benvenuti, bentrovati anche oggi su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con le notizie. Il conto consuntivo bocciato lunedì sera dal Consiglio Comunale di Shaka quasi certamente destinato a tornare all'esame dell'Aula. E' questo lo scenario che si prefigura nell'ambito dell'intervento che ancora non è arrivato, il commissario ad acta che potrebbe chiedere all'Aula un nuovo esame. Non dovrebbero esserci sorprese rispetto al risultato politico già deciso nei giorni scorsi. Sentiamo. Il consuntivo 2023 bocciato lunedì sera potrebbe tornare a breve in Sala Falcone a Borsellino per un nuovo esame. E' quanto viene fuori da una specie di congiunzione astrale che sta incrociando il destino di questo importante punto economico e finanziario con i tempi di nomina del potere sostitutivo da parte della Regione. Ma andiamo con ordine. Il recente respingimento del rendiconto del 2023 da parte del Consiglio Comunale di Shaka rende necessario un intervento di un commissario ad acta che lo approvi al posto del Consiglio. Tuttavia la decisione a maggioranza del Consiglio Comunale non ha ancora reso automatico questo passaggio. E questo sta succedendo perché il dottor Giuseppe Terranova, indicato nei mesi scorsi come commissario, e che avrebbe dovuto assumere la carica di potere sostitutivo dell'assise e mancanza di vie libere al rendiconto, nel frattempo è andato in pensione. L'assessorato regionale alle autonomie locali dovrebbe procedere nelle prossime ore a nominare un altro dirigente regionale. La questione non sta riguardando soltanto il Comune di Shaka ma anche diversi altri enti in Sicilia. La soluzione al problema richiede in ogni caso tempi celeri perché il consuntivo non solo è fondamentale per consentire all'attività amministrativa di procedere ma è anche un punto propedeutico per l'altrettanto necessaria successiva approvazione del bilancio consolidato che a sua volta potrà permettere al Comune di adottare specifici provvedimenti tra i quali i più rilevanti sono sicuramente quelli relativi alla possibilità di scorrere le graduatorie degli ultimi concorsi per il reclutamento di qualche altra unità di personale allo scopo di provare a rinfoltire uffici che con i pensionamenti in atto si stanno letteralmente svuotando nonché per provare ad aumentare di qualche unità le ore lavorative dei lavoratori part-time. Elemento a quest'ultimo che è stato oggetto di un'interessante botta risposta all'altra sera in aula tra l'assessore alle finanze Fabio Leonte e il presidente della Commissione ai bilancio Filippo Bellanca con il primo che provando a ribaltare l'orientamento prevalente verso il no al consuntivo ha evidenziato il rischio che non si potesse intervenire ma con il secondo chi ha chiarito i termini della questione sottolineando che senza consolidato non sarebbe potuto succedere niente anche se il voto al consuntivo fosse stato favorevole. Il consolidato peraltro è tuttora all'esame della Commissione ai bilancio che però ha dovuto inevitabilmente sospenderne la trattazione. È chiaro che pur trattandosi di un punto tecnico il ritorno in aula del consuntivo sia una notizia interessante sul piano politico perché la bocciatura è arrivata come valutazione politica con l'accusa sostanziale da parte dell'opposizione di centrodestra all'amministrazione guidata da Fabio Termine di non avere saputo spendere i soldi dei progetti da 7 milioni e mezzo di euro diventati avanzo di amministrazione ancorché inevitabilmente vincolato. La Prassi impone che prima di apporre la sua firma sul documento nella qualità di potere sostitutivo il commissario d'acta faccia un ultimo tentativo con il Consiglio Comunale affinché sia l'organo amministrativo legittimato e deputato ad approvare il punto, di conseguenza da Prassi dovrebbe essere il commissario a riconvocare i lavori consigliari reinserendo il rendiconto all'ordine del giorno. Di fronte ad una reiterata bocciatura a quel punto sì sarà lui o lei ad approvare il consuntivo. Il potere sostitutivo concederà un'altra decina di giorni ai consiglieri. Di fronte a questa prospettiva e malgrado soprattutto in politica non ci siano fatti scontati appare comunque improbabile che la maggioranza del Consiglio Comunale che ha bocciato il conto consuntivo lunedì sera possa fare una specie di marcia indietro. Il consuntivo, ancorché di fronte ad un'eventuale richiesta del commissario di trattarlo nuovamente, verrà quasi certamente bocciato. La questione, come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare in questi giorni, richiama la memoria al consuntivo di alcuni anni fa, quando era in vigore una norma regionale diversa che culminò con lo scioglimento del Consiglio Comunale. La norma, proprio in considerazione di quanto avvenuto in alcuni comuni, tra cui Sciacca, sarebbe poi stata modificata dall'Assemblea regionale siciliana. L'opposizione continua a dire che non sono i numeri ad essere oggetto di censura e d'altronde non potrebbero esserlo, considerato che 2 più 2 fa comunque 4 e che sul consuntivo ci sono i pareri favorevoli di revisori dei conti e uffici finanziari. Oggetto di censura sono piuttosto le scelte o le non scelte politiche dell'amministrazione Termini che hanno determinato quel risultato, secondo l'opinione dell'opposizione di centrodestra. Sono pochi dunque dubbi su un voto che si confermerà contrario. La questione rimane sotto riflettori per i tempi che, inevitabilmente, non dimenticando comunque che il rendiconto avrebbe dovuto essere approvato entro il mese di aprile, sono destinati ad allungarsi ulteriormente. Mozione di sfiducia al sindaco Fabio Termine. Se ne parla anche se l'iniziativa dei consiglieri Blò e Brucculeri non è piaciuta ai colleghi dell'opposizione, ritenuta una fuga in avanti. Ignazio Messina alla trasmissione L'ospite ammette che l'opposizione si trova ad una sorta di bivio o va verso la mozione di sfiducia oppure ad una sorta di giunta di salute pubblica. Ascoltiamo alcuni passaggi della trasmissione L'ospite in onda da oggi sulla nostra emittente. E' il presidente del Consiglio Comunale di Sciacca, Ignazio Messina, il protagonista della nuova puntata della trasmissione L'ospite in onda da oggi sulla nostra emittente. A poco più di due anni dalle elezioni amministrative si parla di ipotesi di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Fabio Termine. Anche Ignazio Messina ritiene che l'iniziativa dei consiglieri Blò e Brucculeri sia stata errata, ma nella forma e non nella sostanza. Certamente, dice, l'opposizione si trova ad un bivio. Se ne è discusso in circola palesata, a parte l'iniziativa di due consiglieri comunali, che rispetto, nel senso ognuno esprime la propria opinione, però un bivio c'è perché necessariamente... Qui il tema è questo, o la città va bene e allora tutti quanti ci mettiamo lì e applaudiamo al passaggio di chi sta amministrando, ma se la città va male evidentemente qualcosa si deve fare. Sicuramente a un certo punto arriverà all'ordine del giorno delle nostre discussioni anche una prospettiva di questo tipo che comunque sarà da valutare. È una questione di tempi? No, è una questione di condizioni, nel senso che tu non la minacci, cioè una mozione di sfiducia non si minaccia, si fa. Quindi se ci sono le condizioni al tempo debito... E ci sono, pare di capire dalle sue parole. Dobbiamo valutarlo insieme con tutti ieri, non è la decisione mia personale, che ripeto, non trovo una soluzione, però se non c'è più niente da fare, ecco noi come opposizione, l'opposizione qualcosa la deve fare in concreto, l'alternativa, ma dico ecco, tanto per, non è ancora carnevale, ma insomma possiamo anche dirla io rossa, l'alternativa potrebbe essere quella di dire, guarda le cose non vanno, l'altra parte del bivio è non mandiamo a casa l'amministrazione e a zera l'amministrazione facciamo un governo di salute pubblica, dove presente c'è un sindaco che rimane, ma ogni partito ci mette un soggetto che si assume è la responsabilità. Pare un po' più complicata questa seconda strada, dovrebbe trovare anche... Non è ancora carnevale ovviamente, non c'è disponibilità a fare, però per dire in mezzo non puoi stare, perché secondo me, è quella della mia sensazione, non dico schiettezza senza problemi, questa situazione non logora solo l'amministrazione che lavora da sola, nel senso che si logora per i fatti suoi già, ma secondo me rischia di logorare anche l'opposizione. Ed è una coalizione ancora questa, passati due anni, cioè una coalizione pronta eventualmente per una ipotesi di elezioni anticipate? Ma a me sembra di sì, io credo che ci sia un dialogo, nessuno ha mai votato con la maggioranza, ci sono dei passaggi... Ma è un'opposizione variegata comunque che ha subito... Non c'è dubbio, ma anche la coalizione di governo sarebbe stata variegata qualora avesse ha avuto la meglio. La coalizione è pronta anche ad eventuali elezioni anticipate, le chiedo, e lei sarebbe il candidato, sarebbe disponibile a essere nuovamente il candidato? Ma assolutamente non è in discussione questo discorso... Assolutamente no? No, assolutamente no, nel senso che non è una decisione che si può prendere da solo. La disponibilità già sarebbe una cosa. Ma credo che sia giusto che qualche altro si faccia anche avanti, dico io continuerò a dare una mano e continuo a dare una mano, ci mancherebbe come sto cercando di fare, però è giusto che se ci sono anche delle aspettative o delle ipotesi più importanti da mettere in campo, benvengano. Quindi la mia disponibilità è massima nel dare una mano, quello sicuramente... Chiudiamo l'argomento mozione di sfiducia e però le chiedo di commentare, il sindaco ha detto, dopo due anni di parlare di ricorso, adesso parleremo due anni di mozione di sfiducia... Ma io, allora, ci sono questi atteggiamenti, devo dire, perché la battuta ci sta che la faccia, però in alcuni contesti le battute diventano provocazioni. Vi sta sfidando? E spesso le provocazioni poi alla fine vanno a segno, perché poi alla fine chi viene provocato reagisce. Dico, è finita in un certo modo con il ricorso e non ne possiamo più commentare perché è finita come è finita, però stiamo attenti perché magari la mozione di sfiducia può finire diversamente. Una cosa è certa, lì c'erano due parti che si confrontavano, due tesi che in campo che poi hanno avuto, le si hanno avuto, nella mozione di sfiducia c'è un soggetto sottoprocesso e altri che lo devono processare, quindi non è che c'è un'alternativa. Quindi alla fine credo che la provocazione non sia di buon auspicio per chi la fa. C'è la disponibilità di tutti i partiti a portare al 40% la rappresentanza di genere nelle giunte comunali dell'isola. Solo un impegno al momento emerso in Commissione Affari Istituzionali a fronte della battaglia avviata da 20 deputate siciliane che lunedì prossimo terranno un sitino davanti al Palazzo dei Normanni nel giorno in cui il disegno di legge sugli enti locali dovrebbe essere esaminato dall'Aula. Sentiamo. C'è un'intesa tra i partiti per aumentare la presenza obbligatoria delle donne in giunta dal 20% inizialmente previsto al 40% e quanto annunciato dal Presidente della Commissione Parlamentare Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, in relazione alla vicenda della rappresentanza di genere sulla quale è stata avviata una vera e propria battaglia da parte di 20 donne siciliane rappresentanti istituzionali a diversi livelli e di diverso colore politico che hanno avviato una petizione online ma soprattutto dato appuntamento a martedì 15 ottobre davanti a Palazzo dei Normanni nel giorno in cui Lars è chiamata ad esaminare ed approvare il disegno di legge sugli enti locali. L'hanno definita una battaglia di civiltà posto che in Sicilia la presenza delle donne nelle giunte comunali si fermerebbe al 20%, esattamente la metà della soglia nazionale. Il Movimento delle 20 donne impegnate in politica, tra di loro c'è la deputata e sindaca di Montevago Margherita Larocca Ruvolo, inizia a scuotere i partiti che si sono detti concordi nell'incrementare la percentuale portandola al 40%, ma al momento è una dichiarazione di intenti, null'altro. Tra le richieste avanzate dal Movimento delle donne siciliane c'è anche quello del voto palese e nominale il timore che a parole si sostenga la rappresentanza di genere e poi nei fatti si faccia l'esatto contrario. A sostenere la rivendicazione sono anche sindacati e associazioni che hanno annunciato che saranno presenti martedì prossimo alle ore 12 alla manifestazione che si terrà davanti alla sede del Parlamento siciliano. Il disegno di legge sugli enti locali in realtà ha avuto un cammino tutt'altro che agevole e non solo per la contestata questione della rappresentanza di genere. Lo stesso presidente della regione Renato Schifane ha più volte manifestato titubanze, mentre l'Anci, l'Associazione dei Comuni, ha evidenziato come gli enti locali abbiano in realtà bisogno di altri interventi e altri sostegni. A far discutere e generare opinioni contrastanti sono anche altri articoli del DDL, a cominciare dall'aumento delle indennità per gli amministratori, ma anche la novità di un ulteriore assessore previsto per ogni comune, così come l'introduzione della figura del consigliere supplente. E tra le modifiche che si intendono apportare c'è anche quella che rende ancora più complicata la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. L'articolo 8 del disegno di legge infatti prevede la soglia del 70% per far approvare la mozione rispetto all'attuale 60%. A Sciacca, ad esempio, dove l'argomento mozione di sfiducia al sindaco Fabio Termine inizia a circolare nelle fila dell'opposizione, occorreranno 17 voti favorevoli per approvare l'atto. Al momento i voti richiesti sono 15. Coinvolto in un incidente stradale autonomo decide di abbandonare il veicolo e proseguire a piedi ma viene travolto da un'auto in corsa. È successo la notte scorsa in contrada Crocca a Favara. Si tratta di un 33enne del posto che è rimasto gravemente ferito e trasferito all'ospedale di Caltanissette in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che adesso stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Quattro persone denunciate dai carabinieri di Castellammare del Golfo sono ritenute responsabili dell'incendio di due autovetture a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Il primo caso si è verificato in Piazza Europa con l'autovettura che è stata prima danneggiata con bastoni e poi incendiata. Il secondo episodio si è verificato in via 20 settembre. Determinanti ai fini dell'individuazione dei responsabili sono state le immagini del sistema di videosorveglianza. Inaudita violenza su un animale a Racalmuto. Il cane di proprietà di un insegnante cinquantenne del posto è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. L'insegnante ha denunciato il fatto ai carabinieri e poi espresso il suo sdegno sui social per il grave fatto. Discarica abusiva in via Pagani. Siamo nella zona ridosso del ponte Canzalamone, ormai chiuso da tanti anni. Questo non giustifica le condizioni di degrado della zona. Si pone peraltro anche un problema di sicurezza perché nonostante l'interdizione del viadotto c'è chi vi transita, soprattutto con i mezzi a due ruote. Vediamo. La prolungata chiusura del ponte Canzalamone pone anche un problema di degrado nella zona. A ridosso del viadotto, nei pressi di via Pagani, si è generato una vera e propria discarica abusiva. Vi si trova di tutto, dal materiale di scarto, dell'edilizia, materassi, vecchi elettromestici, spazzatura. Sono stati i residenti a segnalare alla nostra emittente la situazione di degrado dell'area trasformata in discarica a cielo aperto. La solita storia comune ad altre zone periferiche della città in cui si ritiene di poter andare a gettare di tutto, approfittando del fatto che con la prolungata chiusura del viadotto nella zona non si registra grande movimento. C'è però chi vi risiede non tollera giustamente di vedere aumentare di giorno in giorno la spazzatura a pochi metri da casa propria. La sollecitazione all'amministrazione comunale è quella di disporre un urgente intervento di bonifica dell'area assieme ad una vigilanza del sito. Il fatto che il ponte Cansalamone rimanga chiuso ha già danneggiato oltremodo residenti e titolari delle attività che pure insistono nella zona. Al di là dei tempi ancora necessari per la messa in sicurezza del viadotto, però, non è concepibile che venga costantemente lasciato nel degrado. Sembra di essere in una foresta, ma non secondario è anche l'aspetto relativo alla sicurezza. Nonostante la chiusura, infatti, c'è chi ha pensato bene di creare un apposito varco per transitare ugualmente con i mezzi a due ruote lungo il ponte Cansalamone, proprio nel tratto la cui pericolosità ha determinato tanti anni fa la necessità di interdire il transito veicolare. Succede di tutto nella zona dall'abbandono dei rifiuti che ha generato la discarica a cielo aperto nel tratto iniziale, nei pressi di via Pagani, all'attraversamento del ponte Cansalamone, nonostante il divieto legato alla situazione di pericolo. Si va avanti così da anni. In realtà, sullo sfondo, poi, c'è l'esasperazione di chi conta i danni derivanti dalla prolungata chiusura del viadotto. Adesso si attende il decreto di finanziamento per poter appaltare i lavori di messa in sicurezza. Sono stati previsti 11 milioni di euro da aggiungere ai 3 milioni da tempo disponibili nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione, lo stesso che ha previsto i 90 milioni di euro per le terme di sciacche a Cireale. Si attende la delibera del Cipe, ossia il decreto di finanziamento, ma poi ci sarà da aspettare anche i tempi per l'espletamento e l'aggiudicazione della gara d'appalto. USA, Canada, Regno Unito, Francia, Belgio e Germania. Se le nazioni gettano lo sguardo sul territorio agrigentino nel segno del turismo esperenziale, lo faranno attraverso gli occhi, le orecchie e l'olfatto di qualificati buyers che da domani sera e fino a donedì mattina potranno toccare con mano il saper fare dei maestri attigiani e visitare siti culturali e luoghi suggestivi che il mondo ci invidia. A promuovere e sostenere l'iniziativa è la CNA territoriale di Agrigento nell'ambito di un progetto su cui scommette l'intero sistema regionale e nazionale della Confederazione, progetto che parte da Rimini dove in questi giorni è in corso di svolgimento la manifestazione di promozione turistica con la presentazione dei percorsi esperenziali. La CNA di Agrigento ha presentato tre itinerari focalizzando l'attenzione sulla città capoluogo e sui vicini centri di Raffadali e Favara, ma anche sull'asse Sciacca-Burge sul versante dell'entroterra. Da domani sera nell'agrigentino la seconda edizione del post-tour del TTG con il programma dell'evento che sarà presentato sabato mattina presso la Sala Zeus del Musso archeologico regionale Pietro Griffo. Ceramica Sciacca, l'assessorato regionale alle attività produttive ha finanziato con 10.000 euro il progetto del comune che punta a riprendere una manifestazione storica Sciacca Terme in ceramica. Sentiamo. Torna Sciacca Terme in ceramica, manifestazione organizzata nei primi anni 2000 dell'amministrazione Cucchiara e dell'allora assessore Salvatore Mandracca. Lo annuncia l'assessore alle attività produttive del comune di Sciacca, Francesco Di Mino evidenziando come il progetto per rilanciare l'iniziativa abbia ottenuto un finanziamento di 10.000 euro. In passato Sciacca Terme in ceramica ha coinvolto numerosi ceramisti in competizioni su diverse categorie. Quest'anno la manifestazione riprenderà con una formula rinnovata di Chiara Di Mino ossia con una gara a cui potranno partecipare fino a sei ceramisti che saranno giudicati per la realizzazione di pannelli in ceramica destinati a diventare elementi di arredo urbano per la città. I pannelli realizzati saranno esposti in via Roma l'8 dicembre in una mostra che celebrerà la tradizione artistica e artigianale di Sciacca. Tutto ciò aggiunge l'assessore Di Mino nell'ambito del percorso di rilancio del settore delle ceramiche artigianali che rappresentano una tradizione e un orgoglio per Sciacca. In tale direzione rientra l'installazione dei primi vasi in ceramica lungo la via Roma e la collocazione a breve di altri manufatti in piazza Saverio Friscia continuando il percorso di valorizzazione della ceramica come simbolo dell'identità cittadina. Di Mino si dice soddisfatto per l'ottenimento di questo nuovo finanziamento che consentirà di riproporre l'iniziativa Sciacca Terme in ceramica che si aggiunge a Sciacca Ceramiche d'Autore giunta alla sua seconda edizione. Un ulteriore passo verso la creazione di appuntamenti annuali grazie anche al coordinamento con i comuni siciliani delle strade della ceramica e all'iniziativa del passaporto delle ceramiche finalizzata a promuovere le eccellenze artigianali e a trarre un turismo culturale sempre più ampio. Il finanziamento di 10.000 euro è stato concesso dall'assessorato regionale alle attività produttive. Voglio ringraziare l'assessore Edita Maio per il sostegno a rimarcato Francesco Di Mino. Dopo il successo del primo weekend torna a Sciacca il programma delle vie dei tesori. Diversi gli appuntamenti previsti per sabato e domenica. Gli organizzatori fanno sapere che già è sold out la possibilità di accedere a carcere di Sciacca, al noto antico convento dei carmelitani. Aperti i palazzi storici e chiesette, mentre sarà replicata la passeggiata lungo le storiche fiuredde cittadine. Tra le novità lo show cooking di Alberta Falco, che preparerà le ova murina previsto domenica mattina a Palazzo Quartararo, alla presenza anche del relatore Nino Sandulle e Maurizio Catalano, che parleranno di aspetti storici, artistici e architettonici legati a Palazzo Quartararo e al pittore Riccardo Quartararo. Vediamo. Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Sciacca, secondo fine settimana dedicato alle vie dei tesori, con un programma ancora una volta ricco e variegato. Già sold out l'accesso al carcere di Sciacca, come il noto antico convento dei carmelitani, che conserva preziose testimonianze architettoniche. Al Museo del Mare, invece, al complesso Fazzello, sarà ancora visitabile la mostra di Vincenzo Nucci intitolata Il silenzio della luce e l'immersione all'asciutto dell'isola Ferdinandea in 3D, grazie agli oculus creati dal sodolizio Marevivo Sicilia. Soltanto sabato sarà possibile visitare la gioielleria Nocito, con al suo interno il Museo del Corallo. Spazio poi ai palazzi storici e ai beni monumentali. Ce n'è davvero per tutti i gusti. A Palazzo Lazzalini, l'associazione La Danza proporrà una visita teatralizzata, ispirata alla capinera di Verghiana a memoria. A Palazzo Tagliavie San Giacomo, per la prima volta, potranno essere visitate alcune sale. A Palazzo Licata Borsellino si potrà scendere fino alle grotte, una volta a magazzini. Alla Casa Museo Scaglione, riflettori puntati sulla ricca collezione ottocentesca. All'ex Convento dei Gesuiti sarà aperto il fondo storico della biblioteca intitolata a Monsignor Aurelio Cassar. E poi le chiesette, quella del Carminello, riaperta da pochi mesi, quella di Sant'Antonio Abate e quella dedicata alla Madonnina del Riposo. Alle spalle della Chiesa Madre sarà aperto il Museo d'Arte Sacra, che contiene su pelletti di liturgiche, ostensori, reliquie di santi, tele preziose ed ex vuoto. Alla Chiesa di Santa Caterina spazio a dipinti e statue di grande valore, mentre alla Chiesa di San Nicolò la Latina immostra le opere dell'artista Lucia Stefanetti. Sabato si potrà anche raggiungere il Museo dell'Oio, dentro un frontoio, dove saranno illustrate le differenze tra Depultivar, Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola. Domenica 13 ottobre, alle 10.30 di mattina, appuntamento in via Quartararo numero 12 per l'esperienza denominata Leova Murina tra storia, tradizione, arte e racconti di un tempo tra vicoli e cortili. Un'esperienza non soltanto sensoriale e degustativa, grazie all'Ovo Murina preparata da Alberta Falco, ma anche artistica, alla presenza dello storico Maurizio Catalano, alla scoperta del pittore Riccardo Quartararo e della sua dimora, Palazzo Quartararo, dove si intrecciano personaggi reali e non, aneddoti, storie e racconti, alcuni dei quali ripresi da Nino Sandullo nel suo libro Dai Vicoli al Viale. L'Ovo Murina, come è noto, era il tradizionale dolce di sciacca, inventato dalle monache dell'Abbadia Grande, allorquando nel 1600 si attendeva la visita in città di Carlo V d'Asburgo, uno show cooking molto atteso e per palati fini. Infine, le passeggiate urbane, quella lungo il percorso delle storiche fiuredde, prevista per domenica alle 10.30, la sciacca ebraica e la sua sinagoga e la grotta vaporosa. Tutti i coupon dei vari appuntamenti in programma e delle esperienze si possono acquistare online nel sito internet delle vie dei tesori oppure anche di presenza all'ufficio turistico del comune di Sciacca. E il dolce più diffuso tra Turchia ed Albania ad inventarlo è stato un pasticcere saccense. Stiamo parlando del Trilece e di colui che per primo lo ha realizzato, Ignazio Piazza. Sulle sue tracce si è messo un giornalista turco che ha chiesto aiuto per risalire alle sue origini al dottor Nino Sandullo. Ci racconta questa storia Massimo D'Antoni. Il video che vedete è tratto dal celebre blog di Giallo Zafferano. Un pasticcere albanese presente è il Trilece, dolce... Separiamo i tuorli dall'album. Montiamo a neve ma utilizzeremo anche il rosso. Aggiungiamo lo zucchero. Ora i tuorli e mescoliamo delicatamente. ...un pasticcere saccense a Giramondo che nel 2000 inventò in Albania il Trilece. Scomparso qualche anno fa, Piazza rielaborò un dolce tipico latino-americano facendogli attraversare l'oceano e che oggi tra Albania e Turchia è il prodotto dolciario più consumato in assoluto. A permettere l'attribuzione legittima dell'invenzione del Trilece a Piazza è stato Altin Raksimi, giornalista turco. Lo abbiamo intervistato. Avevo solo il nome, non ne sapevo neanche da dove era Ignazio Piazza e qual era il suo cognome. Credo che l'ho saputo l'anno scorso, durante l'estate dell'anno scorso. E poi mi sono messo in contatto con la sua famiglia, poi ho imparato che veniva da Sciacca e poi ho cominciato a fare delle ricerche su Sciacca e poi sull'emigrazione dei Sciacchitani verso il centro, verso il nord, verso l'estero. Ma a me mi sembra una storia tipica di italiani, dell'emigrazione italiana, intanto che emigrano come cuochi. Si danno da fare, hanno questa ingenuità di creare delle cose dove cadono. Altin Raksimi ha indagato sulle origini dell'inventore del Trilece e lo ha fatto chiedendo aiuto al medico Nino Sandullo. Mi disse solamente cerco notizie su un certo piazza che vive a Sciacca, in vicolo Puleo. Già il vicolo mi ha interessato perché ho capito che era la zona mia, la zona di Santa Caterina. E ho cominciato la mia indagine. E contatto i primi signori piazza, miei pazienti, i quali mi indirizzano da altri piazza loro amici che realmente erano parenti di Ignazio. Per cui in un successivo incontro, sentendomi con Altin, il giornalista, gli dico cerchi notizie allora su piazza Ignazio. E lui mi conferma e stupito mi dice come hai fatto a capire che era Ignazio? Perché sono un segugio ed ho indagato. E giusto chiarirlo? Io ho chiesto ad Altin, ma io vado interessandomi di questo personaggio. Ma cosa devo dire ai parenti? Perché ho intervistato la nipote, Giussi, la figlia della sorella del signor piazza. E lui mi ha detto, sono interessato a lui perché qui da morto, perché Ignazio adesso è morto nel 2021, qui è molto famoso post-mortem, perché ha creato un dolce, il Trilesh. Da piccolino lui era andato a lavorare nella trattoria del signor Bentivegna. Quindi sono andato ad intervistare Rosanna Bentivegna, la figlia del signor Bentivegna, la sorella del famoso cantante Tony Bentivegna, la quale mi diede delle notizie su Ignazio. Abbiamo parlato, lo conosceva, sapeva che da piccolino lavorava da suo papà e che poi successivamente, intorno all'età di 18 anni, si era messo a lavorare in autonomia. In autonomia si era aperto un suo locale. Dopo alcuni anni di avere fatto il suo locale a Schackel, se ne andò a lavorare ad Aprilia. E quindi ad Aprilia comincia a lavorare nel mondo del catering, della cucina e ha tanto successo. Addirittura fa una convenzione con l'Alitalia per fornire i panini all'Alitalia. Compro un locale, fa un capannone enorme di circa 1500 metri quadrati. viaggia tanto, va a lavorare in Russia, va a lavorare a Tenerife, va in Albania. Quindi con tutto questo successo approda anche in Albania. Una persona molto... Molto creativa, inventiva pur essendo una persona priva di cultura, perché non aveva studiato. Etimologicamente Trilece indica l'utilizzo di tre tipi di latte diverso nella preparazione del dolce. Cosa ci dice la storia di Ignazio Piazza? La storia di Ignazio ci dice che le persone che hanno coraggio, che osano, che si lanciano e che credono in quello che fanno, hanno successo. Ed è questo che Ignazio Piazza a Tirana ha fatto con il Trilecce, perché lui l'ha fatto, l'ha creato, insomma, sapendo le sue origini latinoamericane e poi usando le cose che aveva nella cucina al tempo in Tirana. Come topping ha usato della caramella liquida. Il caramello. Dove si allunga dell'acqua e si prende quella forma di gello e si mette sopra dei dolci. Sei stato in contatto con il dottore Nino Sandullo, medico adesso in pensione, con cui avete ricostruito questa vita di Ignazio Piazza. Hai visto che quanta passione che ci mette questa persona? Ma certamente. Senza di lui l'articolo, il testo non avrebbe avuto la profondità di comprendere come era la vita quotidiana. Lui mi ha fatto anche un gran dono di mostrarmi il suo libro che aveva delle vignette fantastiche sulla vita di Sciacca del dopoguerra. Ma noi adesso possiamo sperare che tu ci venga a trovare prima o poi. Ma sì, non vedo l'ora. E adesso parliamo di spettacolo e del bel momento professionale che sta attraversando l'attrice Sacenze Liliana Marciante che oltre a far parte del cast di Iddu è stata impegnata anche con una fiction in onda sui canali internazionali di Prime Video e che a breve vedremo anche in un altro lavoro prodotto dalla Rai. Vediamo. È un momento lavorativo molto intenso con l'attuale per Liliana Marciante. Attrice Sacenze è uno dei volti più interessanti che al culmine di tanta gavetta avendo investito su se stesse e sulle sue doti recitative oggi sta raccogliendo diversi frutti. La sua presenza nel cast del film di Grassadoni a piazza Iddu e che esce ufficialmente oggi è solo la sua ultima grande soddisfazione professionale. Per quanto riguarda Iddu ho un ricordo indelebile perché sono stati dei giorni pieni mi hanno messa alla prova con un cast d'eccezione ho avuto la fortuna di essere affiancata da Tony Servillo che posso confermare essere non soltanto un straordinario attore come tutti noi conosciamo ma anche una persona di grande spessore umano. Iddu che è stato proposto in anteprima la scorsa settimana all'Abbadia Grande non c'è solo Iddu però tra gli impegni di Liliana Marciante è protagonista anche della serie tv November 2nd disponibile sulla piattaforma Prime Video negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Una serie che è sulla piattaforma Prime ma non in Italia. No. Ce ne parli? Allora, è un progetto a cui tengo tantissimo perché si può dire che è stato proprio l'inizio di questo mio percorso artistico. È iniziato parecchi anni fa e adesso finalmente prende piede appunto negli Stati Uniti e anche in Germania. lo potranno vedere tutti i siciliani e non solo, spero, che vivono all'estero. Si chiama Due Novembre ed è stato scritto da Lucas Ingenito e la regia è di Alessandra Cuttaia. Il mio ruolo è un ruolo importante, sono la protagonista della serie. Mi chiamo Carmela e Carmela è una donna che ha tante sfaccettature. in un primo momento la si vede come una donna fragile, devota alla famiglia, sottomessa al potere del marito, quindi un po', se vogliamo, siamo nel mood attuale del patriarcato, purtroppo, però pian pianino Carmela si fa spazio e vedranno tutti coloro che seguiranno la serie e come questo personaggio prende poi sempre più forma. Una serie girata in Sicilia in lingua originale che ha l'obiettivo di promuovere la cultura italo-siciliana nel mondo e di raggiungere il pubblico italiano-siciliano residente in quei territori. Ma la speranza di vederla anche in Italia c'è? Mi auguro... ...cate? Io non ho notizie in merito, però in cuor mio spero, insomma, che anche il pubblico italiano possa appassionarsi a questa serie. E poi è girata un'altra cosa per la Rai. Sì, una docu-fiction che andrà in onda tra novembre e dicembre prossimo su un caso di cronaca che ha toccato la nostra Sicilia qualche anno fa. Anche lì sono la protagonista della serie e anche questa è stata un'esperienza che ho appena vissuto proprio qualche giorno fa e mi ha lasciato dei ricordi bellissimi. Innanzitutto voglio nuovamente ringraziare, salutare il regista che ha seguito il progetto che è Maurizio Iannelli è una persona straordinaria sia umanamente che artisticamente e poi tutti i miei compagni d'avventura. Tu ci hai parlato di tre lavori in cui interpreti una donna delle donne siciliane. Sì, siccome sono ancora all'inizio e quindi al momento mi tengo stretto ciò che ho conquistato e che spero insomma di aver fatto in maniera degna e poi vedremo insomma spero di non avere questa etichetta di donna siciliana ancora a lungo anche perché mi piacerebbe fare altri personaggi e non solo quelli che mi sono stati dati per adesso però vanno bene anche così. Assolutamente, bocca al lupo. Crepi e grazie ancora. Ciao. Inaugurazione dell'anno scolastico per l'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca alla presenza di tutti gli studenti e del personale un momento di condivisione con riflessione di interventi musicali mentre la benedizione è stata impartita dai frati minori della Chiesa dei Cappuccini. Vediamo. Vieni Italia Italia Siedezza Dirigente Paola Triolo Oggi inaugurazione dell'anno scolastico per l'Istituto Comprensivo Mariano Rossi attività già cominciate ormai da un mese come sta andando quali sono gli auspici per questo anno scolastico? Praticamente l'11 settembre la scuola ha riaperto i battenti quindi come diceva lei è quasi un mese dalla riapertura dell'anno scolastico sarà sicuramente un anno ricco denso e intenso con progettualità rinnovata e attività arricchienti per i nostri alunni dei tre ordini scolastici quindi l'11 settembre i nostri bambini i nostri studenti e studentesse della secondaria di primo grado hanno ripreso per quelli già iscritti e per i nuovi alunni che abbiamo accolto questo percorso tra i saperi proposto appunto dall'offerta formativa del nostro istituto quest'anno la tematica che guiderà la manifestazione ma anche diciamo sarà il let motive dell'intero anno scolastico è quella che è stata diciamo adottata da una frase del romanziere berri il romanziere scozzese berri solo chi sogna impara a volare perché perché noi vogliamo trasmettere ai nostri studenti quella capacità di sviluppo di pensiero divergente di pensiero creativo perché soltanto attraverso questa tipologia di pensiero i nostri ragazzi potranno veramente avere quelle strumentalità di base che gli apriranno le porte al mondo io vorrei ringraziare quest'oggi tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione le autorità civili religiose e l'amministrazione comunale che comunque è stata sempre presente nella vita scolastica con il sindaco il vice sindaco e tutti gli assessori e gli amministratori che comprendono bene che puntare sulla scuola investire sulla scuola significa anche investire sul proprio futuro ringrazio le docenti referenti la professoressa De Michele la professoressa Anna Amato che è proprio la referente della commissione che si occupa delle inaugurazioni delle celebrazioni in genere della scuola ma soprattutto un applauso va ai miei amatissimi alunni alle famiglie che continuano a credere nella nostra scuola e che condividono con noi la nostra mission e vision educativa in breve negli ultimi anni come è cambiato il mondo della scuola una scuola che non è soltanto legata ai rigidi programmi ministeriali ma che è sempre più polo culturale polo di tantissime attività e allora la scuola è sempre in fermento molte norme molte leggi decreti legislativi si accavallano uno dietro l'altro e quindi noi siamo abituati a gestire l'emergenza diciamo che l'assetto scolastico negli ultimi anni è cambiato è cambiato notevolmente a partire per esempio dal piano nazionale di ripresa e resilienza in quanto stiamo portando avanti tutta una serie di corsi di formazione di progettualità rivolta ai nostri alunni ma anche ai nostri docenti perché investire nella formazione è importantissimo per la ricaduta poi formativa che ci sarà per i nostri studenti e io vorrei ricordare quest'oggi anche a 154 anni dalla nascita della grande Maria Montessori lo spessore educativo formativo di questa di questa grande donna oggi si parla anche di parità di genere e Maria Montessori come tutti sappiamo fu la terza donna medico d'Italia specializzata in neuropsichiatria e fu la diciamo proprio la madre del cosiddetto così battezzato metodo Montessori un metodo che fu rivoluzionario all'epoca stiamo parlando diciamo dei primi del novecento ma che è anche attuale ancora oggi perché perché diciamo che è un metodo che affronta tutte quelle trasformazioni che fronteggia anzi tutte quelle trasformazioni che ci sono in atto e ancora oggi appunto come abbiamo detto prima molti sono i cambiamenti e le trasformazioni in ambito scolastico quindi oggi più che mai il metodo Montessori è più è attuale nella nostra scuola cerimonia di intitolazione dell'area pubblica tra la villetta Giardino e l'ex commento di San Domenico a Giovanni Castellucci oggi pomeriggio alle 16 alla presenza del sindaco di Sciacca Fabio Termine dell'ex sindaco Ignazio Cucchiara della dirigente scolastica dell'istituto tecnico e professionale di Stato Calogior Amato Vetrano e di Gino Catania presidente onorario del centro studi Giovanni Castellucci adesso spazio alla Mondadori nella rubrica Il libro del giorno da genitore cosa saresti disposto a fare per salvare tuo figlio Olivia una ragazza di 22 anni è stata avvistata l'ultima volta dalle telecamere a circuito chiuso mentre entrava in un vicolo cieco non è mai uscita e scomparsa nessuno ha sue notizie da 24 ore e più passa il tempo più diminuiscono le possibilità di ritrovarla sana e salva lo sa bene Giulia l'irreprensibile e instancabile spettrice a cui è stato affidato il caso non è una situazione nuova per lei una famiglia disperata un ticchettio implacabile dell'orologio lunghe ore di lavoro lontana dal marito e dalla figlia ma questa volta è diverso e Giulia non ha idea di quanto questa indagine invece la condurrà verso i suoi cari là fuori c'è un uomo pericoloso che ha a disposizione l'arma più temibile di tutte non è una pistola né un coltello è un segreto il segreto più oscuro di Giulia l'unico e da subito è chiaro che la sicurezza della sua stessa famiglia appesa un filo e tutto dipende da lei che si trova di fronte a un ricatto impossibile non deve scoprire cosa è successo davvero a Olivia e deve fare ricadere la colpa della scomparsa su un innocente non sempre chi scompare dovrebbe essere ritrovato trovare Olivia potrebbe essere il suo più grave errore solo un'altra persona scomparsa di Gillian Mac Callister edito Darkside Fazzi editore Siamo allo sport al calcio l'Unitas Sciacca stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia i neroverdi dopo aver vinto all'andata hanno superato l'Accademia Trapani pure nella partita di ritorno per 1 a 2 le reti sono state segnate da Galfano e da Erbini match mai in discussione con gli ospiti che hanno fallito numerose palle gol che avrebbero potuto rendere il risultato ancora più rotondo c'è il servizio missione compiuta per l'Unitas Sciacca che stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia i neroverdi hanno battuto l'Accademia Trapani nella partita di ritorno andando a vincere per 1 a 2 allo stadio Roberto Sorrentino dopo aver superato i trapanesi anche all'andata a Mazzara del Vallo per 3 a 1 qualificazione praticamente mai in discussione con la squadra del tecnico Angelo Galfano che ha controllato le operazioni per tutta la durata della partita tra i titolari si sono rivisti in porta il letto nel Reynolds e poi Licata D'Amico e Galfano che in campionato ultimamente hanno sempre cominciato dalla panchina ed è stato proprio Galfano a chiudere subito ogni belleità di rimonta da parte dei trapanesi sbloccando il match al quinto minuto di gioco con una bordata sul primo palo dopo un errore difensivo dei padroni di casa gli ospiti avrebbero potuto raddoppiare poco dopo ma Caronia si è visto annullare la rete realizzata su calcio di rigore poiché scivolando involontariamente avrebbe colpito il pallone due volte numerose le occasioni da rete confezionate dai neroverdi nel corso di tutto il primo tempo a dimostrazione dell'ottimo gioco espresso nel secondo tempo a partita pressoché archiviata qualche calo di concentrazione di troppo ha permesso all'Accademia Trapani di riportarsi sotto prima pareggiando al cinquantunesimo minuto con De Castro lesto a sfruttare una uscita difettosa di Reynolds e poi rischiando di portarsi addirittura in vantaggio nei minuti finali all'ottantottesimo il gol di Erbini ha permesso all'Unitas di Sciacca di centrare la vittoria pescato da cipolla con un lancio dalle retrovie con difesa di casa immobile netto il percorso dello Sciacca in Coppa Italia con quattro vittorie su quattro partite disputate prima il doppio successo ai danni del Gela nel primo turno poi quello sull'Accademia Trapani nell'ambito degli ottavi di finale nelle prossime settimane spazio adesso ai quarti di finale domenica 13 ottobre intanto torna il campionato di eccellenza con replica della partita di ieri pomeriggio a trovarsi di fronte ancora una volta saranno Accademia Trapani contro Unitas di Sciacca Il Tg finisce qui vi ringraziamo per la vostra attenzione appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a presto